Se hai avuto dei calcoli renali o delle coliche renali, l'unica cosa è usare la tisana spaccapietre. Adesso te la preparo. L'erba spaccapietre è in realtà il cetterac. Ne mettiamo una certa quantità perché è questa che man mano sgretola il calcolo. Aggiungiamo anche delle erbe un po' diuretiche come i peducoli di ciliegio che sono in toccatana per i reni, per la diuresi. Anche la gramigna fa un buon lavoro. Aggiungiamo anche un po' di frassino che ha la capacità oltre ad essere un diuretico di eliminare anche tutti gli acidi urici. Metto anche un po' di mais, la barba di mais, che aiuta la diuresi. In tutta questa tisana dovrai berne almeno un 2 litri al giorno. Non è cattiva, però se preferisci la prossima volta, visto che dovrai andare avanti un po', potremo aggiungere un po' di frutti di bosco per renderla più gradevole. La preparazione è questa. Un 6 cucchiai in 2 litri e un quarto di acqua bollente. Far bollire un 2-4 minuti, lasciare un'infusione 5-8 minuti e poi filtrare. Tutta questa tisana saranno 7-8 tazze e bicchieri da bere durante la giornata, prima o lontano dai pasti. Vedrai che con un po' di costanza avrai un'ottima efficacia. Nel caso ci siano delle infezioni, delle vie urinarie date dalla discesa del calcolo, dimmelo che aggiungiamo un po' di vursina. Questa è la tisana spacca pietre. Questa è la tisana spacca pietre.